La mia fotografia è una forma di comunicazione, fatta di luci e ombre, di contrasti e di colori. Per me la fotografia è importante. Ho avuto la fortuna di essere cresciuto con due culture diverse e questo mi ha permesso di avere una visione ancora più cosmopolita del mondo. Sicuramente grazie alla fotografia sono diventato una persona migliore rispetto a quello che ero prima. Mi ha portato in una dimensione diversa e più profonda, abbandonando la superficialità e la ferivolezza. Ogni volta è un percorso nuovo e si tratti di fotografare una coppia oppure un singolo soggetto. Lo scopo è quello di aprire un varco di luce in cui si cedono le emozioni più profonde che tendiamo spesso a proteggere per paura di mostrarci come siamo realmente. E quando si arriva a quel momento tutto diventa più vero, più colorato, più umano e si entra in un'altra dimensione. Quello che voglio è raccontare la realtà e la verità Ora sento che è il momento di cambiare e sentirmi vivo mantenendo sempre le mie radici, i miei valori, le idee in cui credo Sento il bisogno di alleggerire la mente per assimilare cose che ancora non conosco Sento la necessità di captare qualcosa che è davanti ai miei occhi ma che ancora sto cercando di decifrare Nel momento in cui ho capito cosa volevo fare e chi volevo essere tutto è diventato più chiaro e mi si è aperto un mondo Questo percorso è in continua evoluzione perché ho ancora tanta voglia di raccontare la mia visione e la mia vita attraverso la fotografia Eccovi una parte di me Eccovi una parte di me